Con Lorenzo Falcioni, direttore sportivo del Camerino, è arrivata la partita più importante probabilmente della stagione, l'avversario è il Caldarola, è un derby? Sì, è un derby, è una partita importantissima sia per noi che per loro, loro vengono da una serie di vittorie consecutive, non hanno mai perso, quindi è anche per noi uno stimolo cercare di rifare il meglio possibile. Un ambiente nervoso fino a qualche giorno fa, ma la vittoria di Sanatoia ha improvvisamente riaperto gli entusiasmi. Nervoso sì, perché alla fine c'era il gioco ma non venivano i risultati, sabato a Sanatoia abbiamo fatto una bella partita, ci siamo tolti qualche sassolino alle scarpe, quindi sabato siamo più liberi mentalmente per affrontare questo match. A mister Nicarelli abbiamo chiesto un pronostico, lo chiediamo anche a lei? Sì, il pronostico del mister lo so, io ho una doppia chance, un X.